Lo stemma rappresenta le quattro comunità parrocchiali che gravitano sui quattro punti del territorio e il nome altamente significativo, Kerigma, è il nome che si dà al primo annuncio, quello che Gesù fece nei Vangeli. Si chiama FC Kerigma ed è la nuova realtà nel panorama della terza categoria retina con un insolito presidente, Don Salvatore Scardicchio, parroco di Ponticino, Laterina, Pieve Maiano e Casanuova. Promotori di questa iniziativa sono stati i propri giovani delle quattro parrocchie. Da tempo che li stimolavo a creare qualcosa di forte, di impegnativo e che fosse anche promotore di un qualcosa di comunitario, di gruppo. La Rosa è già pronta e composta da una ventina di ragazzi del posto, pronte ad allenarsi ma soprattutto a scendere in campo ovviamente anche per vincere. I giocatori alla fine quando entrano in campo vogliono sempre vincere, quello senz'altro. Diciamo che però dopo i 90 minuti che si vinca o che si perda siamo tutti amici tra noi e tra gli avversari. Intanto in attesa che inizi la preparazione è stato già stilato un rigido regolamento interno da seguire in campo ma non solo. La sfida di essere uomini maturi fuori del campo partendo dal campo. Tra i sostenitori della nuova realtà sportiva anche un supporter d'eccezione. Anch'io quando cominciai a giocare a calcio con la Nazionale Cantanti cerchevamo di essere corretti per l'immagine, per difendere l'immagine e tutto in qualche modo. Però quando sei in campo poi ti prende quella fuga, quella che a volte puoi andare sopra le righe. Ma ci penseranno i dirigenti, il presidente, saranno tutti attentissimi a far sì che questo accada almeno possibile. Poi se accade una volta ogni tanto magari può capitare, si fa una confessione, una benedizione e si risolve tutto.